A pochi giorni dal giudizio di esclusione della valutazione di incidenza ambientale per le opere di difesa della costa relativa al terzo lotto a nord della foce del torrente Calvano, balneatori associati Pineto e nuova associazione pinetese albergatori intervengono sull'argomento, chiedendo una maggiore chiarezza, dialogo e una più ampia condivisione degli obiettivi. La preoccupazione in primis è che questi lavori possano portare a ripercussioni in altre zone della costa. Questo progetto che state vedendo alle mie spalle è un progetto già approvato nel 2019 dal comune di Pineto, che ora sta attuando la regione. Il problema è che per quanto riguarda il terzo lotto, noi non è che siamo contrari, però vogliamo sapere che cosa succede proprio sotto il flusso di queste barriere emerse, in quanto proprio in questa zona ci dovrebbe essere un arretramento di 18 metri, che poi la regione dovrebbe prevedere un ripascimento continuo negli anni di circa 600 mila euro. Noi chiediamo perché non si fanno delle valutazioni serie per capire tecnicamente che cosa andiamo in cosa, anche perché qui abbiamo poi passato il torrente Calvano, abbiamo l'area maniera protetta, poi abbiamo il campo sportivo, abbiamo una serie di infrastrutture anche comunali che potrebbero avere dei danni, oltre ovviamente tutta la costa a sud del torrente. Gli operatori specificano di non essere contrari a priori a interventi di difesa del litorale, ma chiedono però che i progetti siano condivisi con tutti i portatori di interesse, e non solo con una parte di essi. Nessuno è stato, qualche associazione, qualcuno vuole dire, vuole metterci in bocca, ma assolutamente non siamo, siamo a proposito, vogliamo che le cose vengano fatte in maniera chiara, limpida, tecnicamente siano valide, con delle risposte valide. Noi abbiamo quel pennello che si vede che potrebbe recare, perché non si trovano delle soluzioni, metterci un T? Adesso non sono io che devo, non sono un tecnico, non devo dire, però trovare delle soluzioni affinché le forze centrifughe che si sviluppano a sud non vanno a fare erosione, come in tutti i pennelli. Ecco, trovare delle soluzioni un pochettino che ci diano una certa collaborazione anche con l'altra parte del paese che ci siamo.